Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo testo di contatto della serie di Minecraft. Oggi ragazzi, sono da solo, sono da solo e sono da solo. Per me le opportunità saranno tutti i miei amici. Uno è Armando che sono Samdom, e poi voi, 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 voi. Ah, ok ragazzi, siamo qui. Ciao a tutti. Io direi di, uno, uno, due, tre, in. E, ragazzi, voglio fare una, 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 una. Come si chiama? Come ricordo. Una, una, una stanza subterranea. Una stanza subterranea. E, me l'ha consigliata di farla. Inghilpa, lo renderemo, tolto di tarwella. Inghilpa, io lo metteremo, las tua. Per iácilpa, e, niente, ci ritorniamo quando ho visto i miei costi di tarpe. Eccoci ritornati con la casca, questa è anche il Michael, ci saranno ancora, ci saranno un po' di diamante che si serve per scoccare, e per andare in un momento, perciò che potremmo andare in un po' di diamante che si serve per scoccare, e perciò che potremmo ricordare e perciò che si serve per scoccare, e perciò che si serve per scoccare, e perciò che potremmo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.